Cavallo Lipizzano Lipizzano è un piccolo villaggio slovieno a nord di Trieste e come molti sanno è la patria del cavallo di razza lipizzana razza che come oggi la conosciamo si formò intorno al 1700 durante il regno di Maria Teresa d'Austria grazie al lavoro del principe e consorte Francesco di Lorena è una razza con una storia lunga e molto travagliata ma a noi basta sapere che oggi questa splendida razza con l'aiuto del ministero delle politiche agricole e forestali e dell'istituto sperimentale per la zootecnia viene allevato anche in Italia a Monterotondo dove da circa 20 anni è stato creato l'allevamento statale del cavallo Lipizzano che si estende sulla superficie di oltre 160 ettari sufficiente a garantire ricchi pascoli i cavalli che ancora vivono allo stato brado in condizioni dunque molto naturali l'allevamento del cavallo Lipizzano è il compito di mantenere impurezza i cavalli che sono la testimonianza vivente nei tempi precedenti la motorizzazione in cui il tiro efficiente ed elegante l'equitazione classica e la monta di scuola raggiunsero livelli di eccellenza assoluta soprattutto presso le grandi corti europee oggi questo istituto vive perché crede nel sogno di dare nuova vita alle radici mitte e europee di questa razza un sogno che parte della nostra comune eredità europea grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti